Si parla di cuore, medicina di genere, patologia cardiovascolare nelle donne. Questo è il titolo del convegno promosso dal club Soroptimisti di Nuoro, preseduto da Antonio Pessei, che si è tenuto nei giorni scorsi nell'auditorio della biblioteca Assata di Nuoro. I lavori sono stati introdotti da Gavino Casio, direttore dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale San Francesco di Nuoro. Un convegno che aveva anche la funzione di sfatare alcuni luoghi comuni duri a morire, come quello che le patologie cardiovascolari sono prevalentemente di pertinenza maschile. Ma mentre gli studi epidemiologici sulla popolazione maschile sono iniziati negli anni 50, quelli sulle donne datano i primi anni 90, studi che hanno consentito di scoprire che nelle donne le malattie cardiovascolari si manifestano con 10 anni di ritardo, se hanno meno eventi, ma che provocano danni più gravi. Inoltre, fino alla menopausa, le donne possono godere della protezione ormonale. Dopo, in un periodo che si aggira attorno ai 10-15 anni, le donne vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari. Sono state quattro le relazioni, i fattori del rischio cardiovascolare nelle donne, tenuta da Vanna Muredu, già direttrice dell'unità operativa di cardiologia dall'ospedale San Francesco di Nuoro. Il dolore al cuore è quando pensare ad un infarto di Rosanna Pesse, direttrice dell'unità operativa di cardiologia dall'ospedale di Olbia. Nutrirsi bene per vivere meglio, di cui ha parlato Melia Mura, nutrizionista, e muoversi di più un tesoro ancora non noto, tenuta da Giussi Rui, docente di scienze motorie. Il 31 marzo, in programma all'evento, si cammina per il cuore, una passeggiata che prenderà il via dai giardini di piazza Vittorio Emanuele a Nuoro e attraverserà le vie della città.